...delle autorizzazioni di verificare se riusciamo a finire nei 30 giorni da quando è arrivata la richiesta dell'autorità giudiziaria ma comunque in via precauzionale di richiedere al Presidente della Camera come consente il regolamento una brevissima eventuale proroga di 7 giorni e quindi fino all'11 di luglio che corrisponderebbe a un mese quindi a 30 giorni da quando è arrivato l'ultimo plico di documenti da parte dell'autorità giudiziaria quindi formalmente dovrebbe finire una settimana prima sostanzialmente sarebbe 30 giorni accogliendo la nostra richiesta da quando sono arrivate tutte le carte. La giunta ha dato il proprio assenso sia pure a maggioranza, a larghissima maggioranza.